tiriamo fuori il nostro pollo, meraviglioso, vado a prendere i miei filazzetti di pollo o straccetti li vado a mettere sulla griglia quella con i forellini sotto e vado a tagliare tutti i miei straccetti sulla griglietta nel cestellino ho messo le patate già condite, vado a chiudere così e lo vado a fissare dentro il mio nella mia T31 sotto ci ho messo il pollo, adesso chiudiamo accendiamo tutto touch, quindi scegliamo pollo e diamo l'ok, può essere anche come potete vedere come andato dal remoto, dobbiamo anche accendere la luce e vedere come funziona eccalala che gira questo è per togliere la griglia girevole ma in questo momento a me mi serve e quindi la lascio la luce nel frattempo la posso spegnere vediamo un po' come sta procedendo mmmm direi molto bene tutto pronto, adesso lo serviamo per non bruciarsi abbiamo le pinze dove possiamo prendere il nostro cestello e togliere le patate e quindi Grazie.